Matteo Pandolfo in provincia di Belluno svolgeva l'attività di muratore, uno sfasciato in gergo palermitano, un pesce piccolo comunque incaricato nel 2021 di fare il guardiano ed esattore della borgata di Sferra Cavallo, poi caduto in disgrazia in esilio forzato. Pandolfo è uno degli unici arrestati alle prime luci dell'alba di oggi nell'ambito di una operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo che si sono spinti fino nella provincia di Belluno per sferrare un nuovo colpo alle famiglie di Tommaso Natale e Partanna Mondello. Ad arrestare e portare nel carcere di Baldenic Matteo Pandolfo di 47 anni sono stati i carabinieri di Palermo che con il supporto dei colleghi di Cortina hanno rintracciato l'uomo che proprio nell'ordinanza di oltre 300 pagine del GIP viene definito guardiano ed esattore. 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite stamani, 8 in carcere, 3 i domiciliari con braccialetto elettronico. In carcere è finito tra gli altri il nemico giurato numero uno di Totori Ina, Michele Michalizzi di 73 anni. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, consumata e tentata con l'aggravante del metodo e delle modalità mafiose nonché per tentato omicidio aggravato. Sull'operazione è calato il silenzio delle istituzioni bellunesi. Che le Olimpie di Milano Cortina 2026 siano davvero l'obiettivo concreto delle organizzazioni criminali sembra assodato, si era mai più di un sospetto, tanto più che dalle intercettazioni emerge proprio la volontà di rincorrere fondi e capitali prontamente disponibili come i bandi dell'Unione Europea. I tentacoli di mafia Camorra e Indrangheta dal litorale veneziano potrebbero essersi già allungati fino alla montagna e adesso sì è il caso di alzare la guardia.